Senti, allora, per quanto riguarda la figura del DJ, è una cosa nuova, abbastanza nuova per me. Avevo questi amici, tra cui Iari, che comunque sia erano sempre in questa roba del DJ, io sono sempre andato con loro, lui è un altro nostro amico, e a stare con loro hai visto, stai lì, ti appassioni, ti piace, ok? E piano piano ho iniziato a provare, mi riusciva, vedevo che mi riusciva, nel mio piccolo mi riusciva, quindi ho detto perché non provare, e da lì ho iniziato. C'è da dire comunque, per me la techno, quello del suono, è ciò che sono sempre andato ad ascoltare, ovunque, che sia stato Fortezza, che sia stato a Rimini, io andavo sempre comunque come punti di riferimento, Chris Libin, Glenn Fahey, questa roba qui, comunque non mi sono mai... Diversificato da un altro? Esatto, ho sempre, fin da quando ho potuto, si poteva comunque andare a ballare, che prima magari c'era anche meno controlli, hai visto? Certo, riuscivi un attimino a entrare, mi è sempre piaciuto quella roba, però la vivevo da io che andavo a ballare, non mi era mai passato per la testa di... Senti, ero con loro, ero lì che provavo, insomma, a provare a suonare, e ad un tratto, proprio nel cervello, me lo ricordo, mi è scattato questa cosa, ho detto, cazzo, mi riesce. E quindi ho detto, perché appunto, perché non provare, da lì, sempre grazie a Iari, comunque mi ha dato una mano, con la sua roba, perché io ovviamente non avevo nulla, e un giorno sì, un giorno no, alla fine mi sono appassionato, ho comprato la mia roba, comunque abbiamo iniziato poi il nostro progetto e via via, ora ancora sto imparando, ovviamente non sono nessuno, però è così, è andata così, molto, abbastanza veloce, devo dire. Allora, il gruppo, noi, senti, eravamo appunto Iari, che ci garbava questa roba, Iari conosceva Tancre, e si è detto, perché non provare a creare una connessione tra noi, e ci si vedeva le prime volte a provare a suonare, così si vedeva e c'era intesa, e si è detto, perché non provare a fare un qualcosa insieme. Cioè, abbiamo fatto la prima serata a novembre dell'anno scorso, andò abbastanza bene, e da lì poi ci chiamarono appunto al 303, e da lì abbiamo continuato con un continuativo al mese. Abbiamo le stesse passioni, comunque le stesse, abbiamo tante cose in comune, quindi ci si sente anche al di fuori del progetto, capito? Le prime esperienze, poi la mia prima vera esperienza è stata la prima serata di Modern Right, e ti dico, è stata bella a livello emotivo, bellissima, perché davvero, come penso a tanti altri, mi ha dato modo di potermi esprimere, però è stato, ti dico, ho fatto tanti arrosti, tante... Vabbè, penso sia normale comunque, quindi ti dico, è andata bene, però sono anche abbastanza autocritico, quindi mi sono detto, ci ho da migliorare. È tanta ansia, però io ho la fortuna, nella vita in generale, riesco a trasformare questa ansia da prestazione in roba, cioè, devo fare bene, non mi faccio prendere troppo dal panico, quindi mi dico, devo fare bene, boom, lo faccio. Ci sono le giornate in cui, le serate in cui magari ti sembra di non piacere, le giornate dici, wow, ho fatto... Sono Dio! Capito, cioè... Sì, è normale, esatto, esatto. Produci anche? Senti, sto ora da un 6-7 mesi e sto facendo lezioni, esatto, sto investendo tanto ora come ora anche su quello, e credo sia... di essere, dai, di stare salendo piano piano, di capire il mondo contorto dei programmi e tutto. Sto cercando di trovare la mia identità nel suonare, credo di averla comunque trovata, però nel produrre c'è da lavorare tanto, c'è da trovarla, sto sentendo tanti ragazzi comunque per consigli e sto prendendo un po' da capire, un po' da quello, un po' da quell'altro. Senti, ti posso fare un paragone tra suonare e produrre, una roba così. Per quanto mi riguarda il suonare sono abbastanza deciso, perché mi piacciono determinate cose, apprezzo tantissimo le altre, cioè non mi... però sono abbastanza coi paraocchi su quello che suono, cioè sono molto selettivo, mi piace cercare roba che mi piace, ok? Detta male. Però per quanto riguarda il produrre invece sentendo anche tanti altri tipi di roba capisco e non puoi solo ed esclusivamente basarti su quello che ti piace, capito? È giusto fare avere la tua identità, però anche riuscire a fare entrare, esatto, a fare entrare anche altre tipologie di suoni, di comunque tanto tanto tempo, una roba che non dico che ce la farò, però ci si prova. I miei piccoli obiettivi, ora come ora, sono riuscire a produrre qualcosa di mio, che facendolo ascolta, non per forza uscire in etichette, cioè poi ve lo verrà, però comunque fare in modo che piaccia a chi conosco e comunque sia apprezzato dalle persone a cui le invio e al momento in cui quella cosa dirà, mi dicono, guarda, sei arrivato a un buon punto, poi comunque sono seguito da persone molto... È un metto in paragone diciamo sicuro. Esatto, esatto, persone che comunque sono abbastanza, ti dico, arrivato a quel punto, magari mi dico, guarda, questa te la suono, questa sì, e a quel punto proverò lo step successivo, ovvero inviare le etichette o fare un EP tutto mio, comunque molto tranquillo, su questo sono abbastanza tranquillo. Senti, io ero in un momento, ora sembra chissà che, però io dopo il Covid perso lavoro, non sapevo più cosa fare perché facevo il cuoco e era una delle mie passioni, a me piace, piaceva, piace tuttora cucinare, però col discorso del Covid è proprio andato giù e trovare lavoro lì significava andare a lavorare nove ore in una cucina e prendere il nulla. Quindi ho trovato questo lavoro, faccio il corriere, una roba molto semplice, dove sì, ci sono i soldi, però non hai quella voglia di dire ok, vuoi lavorare come tanti altri, ovviamente. Quindi ti dico, ora o me ora, se non ci fosse la musica non saprei bene, cioè ora sto puntando tante energie mentali, fisiche sulla musica e credo sia la direzione giusta, sono abbastanza... Non sei stato diciamo molto in questo quadro? Sì, sì, non saprei, probabilmente ora sarei a fare il cuoco, comunque perché anche lì ci stavo puntando, comunque ho studiato per quello, però è andata così. Con i ragazzi altre esperienze, vabbè, il viaggiare, comunque andare a ricercare sempre più set, andare a sentire a noi ci piace questo, come a tanti altri. Sì, club, festival, comunque sì, però abbiamo anche tante, c'è il viaggiare, andare in posti, dove staccare un attimo, comunque è una roba molto... Su questo siamo molto uniti e molto simili. Grazie mille. Grazie mille.